Un 2022 che sa di rinascita per l'Avis Pedale Verolese e per la Verola Paracycling Cup. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna la classica manifestazione del ciclismo bresciano legato all'attività paralimpica. Seppur ridimensionata nelle giornate di gara, ma non di certo nella partecipazione e nella qualità dei partecipanti, l'ottava edizione della Verola Paracycling Cup è andata in scena domenica 24 aprile. Alle ore 10.15, puntuali come dal programma, dopo aver espletato tutte le operazioni preliminari, è partita la prima delle due manche che hanno portato a Verola il grande sport paralimpico. Circuito cittadino quello studiato e ottimamente preparato dal gruppo dell'Avis Pedale Verolese. 5 km lo sviluppo del circuito da percorrere più volte. E dopo l'ora di gara ci sarà il suono della campana che sancirà l'inizio dell'ultimo giro. Partenza e arrivo situati in via Stadio per quest'ottava Verola Paracycling Cup. Da qui gli atleti percorreranno Via L'Italia, Via Lenzi, Via Circonvallazione, Via Industriale, Via Circonvallazione, Via Lenzi, Via L'Italia, Via Gerola Morovetta, Via Cavour, Via Ercole De Gasperi, Via San Rocco, Via Giacomo Leopardi, Via Indipendenza, Via Castello, Via Roberto Sandri, per arrivare poi in via Stadio col Viale dell'Arrivo con una leggera pendenza in salita. Nella prima delle due prove si sono cimentati le categorie dell'handbike maschile MH1 e MH2, quelle dell'handbike femminile VH1, 2, 3, 4 e 5 e i tricicli sia maschili che femminili. Nella seconda prova invece si sfideranno le categorie dell'handbike maschile MH3, MH4, MH5 e MHO. Il meteo, clemente questa mattina dopo i temporali della notte, sta dando la possibilità agli atleti di gareggiare con asfalto asciutto e poter così dare il proprio meglio. Diverse le maglie di campioni nazionali e mondiali presenti in questa ottava edizione della Verola Paracycling Cup alla memoria di Salvatore Galluffo. Forse la più conosciuta è la pluricampionessa paralimpica Francesca Porcellato, l'unica paratleta a partecipare ad 11 edizioni dei giochi paralimpici e capace di vincere medaglie olimpiche in tre diverse discipline, sia nelle Paralimpiadi estive che in quelle invernali. Multidisciplinarietà per Francesca Porcellato, che ha primeggiato sia nello sci, poi nell'atletica e per infine arrivare al ciclismo, nel quale da anni è ai massimi livelli su scala mondiale. Mentre scorrono le bellissime immagini dell'ottava Verola Paracycling Cup, leggiamo le classifiche di questa prima batteria partendo dalle categorie maschili, con la MH1 dove vince Giuseppe Uberti dell'Active Team La Leonessa, davanti a Fabio Marzocchi della Apre Olmedo e a Giannino Piazza dell'Active Team La Leonessa. Per quanto riguarda invece la categoria MH2 a vincere è Juan Carlos Di Bella della B&Bike, che precede Omar Rizzato dell'Active Team La Leonessa, Matteo Piero Pan della Restart Sport Academy, Ivano Dacanal della Gian Benini e Paolo Baroncini della Restart Sport Academy in quinta posizione. Passiamo alle classifiche della handbike femminile, dove nella MH1 vince Angela Procida della Restart Sport Academy, che precede Simona Camparisi dell'Active Team La Leonessa. Nella categoria MH2 a primeggiare è Roberta Amadeo della B&Bike, mentre nella MH3 a vincere è Francesca Porcellato del gruppo ciclistico Apre Olmedo, che precede Erika Scrivo della Restart Sport Academy. Nella categoria MH4 invece è Giulia Ruffato a trionfare con la percorrenza di ben otto giri e la sua società di appartenenza è la Restart Sport Academy. Giulia Ruffato, che ha vinto anche la classifica femminile assoluta, precede nella categoria VH4 grazie a Colosio della B&Bike. Concludiamo le categorie handbike femminili con la VH5, dove a primeggiare è Katia Aere del Trivium Froggy Team. Restiamo sempre sulle categorie femminili, ma passiamo ai tricicli, dove vince la svizzera Céline Van Til con 7 giri e la sua società di appartenenza è la Plus Sport. Nella categoria dei tricicli maschili invece a vincere è Leonardo Melle della Marruggio Social Sport con 7 giri, mentre al secondo posto si è piazzato Fabio Nari della ASD Peppe Molè. Partita intanto la seconda gara, anche per questi atleti un'ora di prova più un giro. Tantissimi gli appassionati che, coordinati da Matteo Cervati e Sergio Tosoni, si sono fatti in quattro per organizzare al meglio e in piena sicurezza questa manifestazione, che a detta di tutti gli atleti è sempre ad altissimi livelli organizzativi. Una macchina organizzativa ormai rodata che dal 2010 è vicina al mondo paralimpico e che come ogni anno, anche in questo 2022, ha trovato l'appoggio oltre che dalle istituzioni anche di sponsor che permettono di mantenere in marcia tutta questa macchina organizzativa e che bisogna ringraziare per il loro sforzo. Nell'ottava edizione della Verola Paracycling Cup si sono presentati un centinaio di atleti, tra cui la rappresentativa thailandese. Di sicuro numeri ancora condizionati dalla coda della pandemia e dagli ancora restrittivi protocolli a livello internazionale, ma comunque numeri di ottimo livello e soprattutto grandi atleti alla partenza. È giunta l'ora di leggere anche le classifiche della seconda gara di questa ottava Verola Paracycling Cup. Partiamo dalla categoria MH3 dove a primeggiare è Martino Pini della GSC Giamberini che ha percorso nove giri. Al secondo posto si è piazzato Davide Cortini della Restart Sport Academy, mentre in terza posizione si è piazzato Claudio Conforti Totisco della BM Bike. Quarto posto per Roberto Brigo della GSC Giamberini, mentre in quinta posizione troviamo Loreto Di Loreto del gruppo sportivo paralimpico difesa. Passiamo alla categoria MH4, anche in questa categoria percorsi nove giri dal vincitore che risulta Cristian Giagnoni della Active Team La Leonessa. Secondo posto per Pier Alberto Buccoliero della Restart Sport Academy. In terza posizione troviamo il suo compagno di squadra Alessandro Donofrio. Quarto posto per il tailandese Sumas Panalai, mentre in quinta posizione si è classificato Andrea Botti della Tiguglio End Bike Team. Categoria MH5, anche qui nove giri percorsi dal vincitore Tiziano Monti della Restart Sport Academy. Secondo posto per Mirko De Cortes della Active Team La Leonessa. Terza piazza per Fabrizio Bove della Restart Sport Academy. Quarto posto per il tailandese Thanattarit Song Chan Mat, mentre al quinto posto troviamo Guido Pairer della Sport Team Vallagarina. Chiudiamo le classifiche con la MHO, dove a primeggiare è Alberto Glisoni della BN Bike. L'ottava edizione della Verola Paracycling Cup si arricchita anche della presenza prestigiosa di Francesca Porcellato. Allora a lei chiediamo un giudizio tecnico proprio sul percorso che gli uomini e le donne del team organizzatore hanno preparato per questa edizione. Ma io sono un abitué di Verola e sono qui per l'ennesima volta perché mi piace l'ambiente, mi piace l'organizzazione, mi piace il percorso. Qui ho vinto il mio primo titolo italiano, dunque ho anche un po' di cuore in queste strade. Che dire, come sempre ottima organizzazione. Oggi siamo stati graziati dal tempo, siamo arrivati con la pioggia, ma siamo partiti con il sole e adesso ci stiamo godendo un sole splendente. Insomma anche il tempo e il sole ride a questa bellissima manifestazione. La tua stagione adesso cosa prevede? Allora, la mia stagione prevede un campionato europeo e un campionato del mondo. Arrivo da un post Tokyo dove ho vinto un argento la gara a crono e ho preso una lunga pausa di riposo dopo Tokyo. Sto iniziando a pedalare in questi giorni, dunque la mia preparazione è ancora molto scarsa, ma conto di arrivare al mondiale molto preparata. Con Silvano Perusini del Comitato Nazionale Paralimpico, qua a Verola Nuova in occasione dell'ottava edizione della Verola Paracycling Cup in casa dell'Avis Pedale Verolese. Ancora una volta sugli scudi per portare il paraciclismo in questa cittadina della provincia di Brescia. Sì, infatti un'ottima organizzazione, ho visto un percorso molto tecnico. Da una parte dava la possibilità di fare alta velocità e quindi utilizzare dal punto di vista del modello prestativo tanta forza. E poi una parte del circuito in centro paese dove la tecnica era predominante. dove praticamente l'abilità nel gestire il mezzo, nel gestire l'handbike era fondamentale. Quindi un percorso molto bello, molto completo. Dal punto di vista anche della sicurezza ho visto che la società organizzatrice ha fatto veramente tanto. Ogni incrocio era controllato, tutto transennato. Quindi direi un'ottima organizzazione per una bellissima gara. Sì, un grande lavoro alle spalle per portare un centinaio di atleti quest'oggi qua a Verola Nuova. Sì, infatti la partecipazione è stata notevole nonostante le premesse per quanto riguarda il tempo meteorologico non erano buone. Avevano messo tanta pioggia e questo diciamo preclude la possibilità a tanti ragazzi di partecipare alle manifestazioni con pioggia. Ma nonostante questo, nonostante le previsioni, è stata una bellissima giornata e ha permesso anche di fare delle alte medie, delle alte velocità. Con l'assessore ai servizi sociali del comune di Verola Nuova, dopo le parole del sindaco, la signora Maria Carlotta Bragadina, allora abbiamo riconosciuto anche delle parole del sindaco il grande apprezzamento al grande lavoro degli uomini e le donne del team Avis Pedale Verolese che però trova sponda nell'amministrazione comunale. Sì, direi intanzitutto grazie al gruppo volontari dell'Avis Verolese Pedale. È importantissimo perché la presenza di questo gruppo permette anche la valorizzazione di questi uomini e donne con qualche disabilità che però danno testimonianza di una vita e di una capacità di competizione come tutti gli altri. E quindi queste gare sono un elemento importante proprio per sensibilizzare tutta la comunità attorno al tema anche della disabilità. tema su cui noi lavoriamo moltissimo, non solo come comune ma anche come territorio più ampio. Con il sindaco del comune di Verola Nuova, il signor Stefano Dotti, comune di Verola Nuova, a fianco ancora una volta del Avis Pedale Verolese per questa che ormai è l'edizione numero 8 della Paracycling Cup qua a Verola Nuova. Sì, è un grande piacere perché è un po' la ripresa dopo la pandemia ma è anche e soprattutto una manifestazione di civiltà e di importanza dello sport che unisce tutti. A Verola Nuova ormai è diventata una tradizione, i cittadini comunque hanno seguito la manifestazione volentieri. Il risultato fortunatamente è qualcosa di importante che è stato un giorno di festa, nonostante il tempo non fosse così clemente perché è un po' piovuto, adesso c'è il sole, però è sicuramente il modo per stare insieme, per socializzare e soprattutto l'importanza dello sport per così poter promuovere quelli che sono i valori della solidarietà, dello stare insieme, dell'amicizia e quei valori della lealtà nello sport e anche dell'agonismo che ti fanno andare avanti e che ti fanno così, che ti danno soprattutto la speranza, l'aspettativa anche verso il futuro. Io credo che lo sport abbia soprattutto questo significato. Noi abbiamo un gruppo sportivo importante e degli impianti sportivi sicuramente rilevanti a Verola Nuova e crediamo che lo sport sia uno strumento educativo soprattutto per i giovani e questo credo che sia un momento importante, un passaggio importante per la nostra comunità. Valori dello sport che si percepiscono fin dal nome della società organizzatrice, non a caso, Avis, Pedale Verolese. Sì, Avis e soprattutto per il volontariato, per il senso del dono, della gratuità ed è una cosa non scontata oggi perché oggi nessuno fa niente per niente e quindi i volontari vanno sopromossi e vanno soprattutto valorizzati e riconosciuti. Voglio ringraziare chiaramente l'Avis, Pedale Verolese, in particolare Cervati, gli organizzatori perché sono loro la vera anima di questa manifestazione, noi l'abbiamo appoggiata, noi l'abbiamo sostenuta, però dobbiamo dire grazie soprattutto a loro e alla loro organizzazione. Il motore è partito qualche anno fa ma fortunatamente non dà segno di cedimento, continua a girare a pieno regime. È partito, io ero sindaco allora, sono ancora sindaco, siamo qui come amministrazione, però io credo che dare continuità a questi eventi sia importante, saperli promuovere, saperli far crescere nel tempo, far crescere l'entusiasmo, soprattutto la partecipazione, io credo sia la cosa fondamentale. Grazie, con Matteo Cervati in conclusione di questa giornata di Endbike a Verola Nuova, grazie al lavoro importante di tutto il tuo team dell'Avis Pedale Verolese, uno successo per l'edizione numero 8 del Verola Paracycling Cup. Sì, un bel successo perché dopo due anni di fermo a causa Covid abbiamo voluto in tutti i modi di poter ricominciare. Sfortunatamente a causa del protocollo internazionale UCI abbiamo dovuto fare la gara nazionale, però l'imponente era partire. L'ingranaggio si era un po' arrugginito, però si è sbloccato la svelta. Abbiamo trovato anche le persone del paese che ci hanno dato una mano. Bello, è stata una bella ripartenza. Una ripartenza anche premiata dal numero di atleti che oggi erano qua a correre. Sì, eri iscritti 94 partenti 79, è un buon numero per il livello nazionale. Anche perché le premesse dal punto di vista meteorologico erano pessime, come ci hanno detto anche precedentemente, molti hanno evitato per ovvi motivi. Sì, perché è caldo che tra 15 giorni c'è la Coppa del Mondo. Sì, circa 15 giorni è la Coppa del Mondo e tanti atleti che vanno a fare la Coppa del Mondo non volevano rischiare visto le temperature e il tempo. Però alcuni sono venuti qua, hanno onorato la gara, gli è piaciuta. Poi fortunatamente è venuto fuori il sole, di acqua le abbiamo presa un gran poca e va bene così. Allora il motore è ripartito e l'appuntamento è per la prossima edizione? Sì, adesso dobbiamo fare un briefing noi come squadra e capire un attimino di ripartire alla grande per il 2023.